Grazie a tutti. A Los Angeles ho fatto il quinto posto nei Memphis che ho per 40. Una nuova esperienza, però nel cuore ho ovviamente i bodybuilding. Ragazzi, le immagini parlano da sole, per me è un misto. Io ero un ragazzino e sognavo un po' di building e lui era già lì e oggi è ancora qui in una forma eccezionale. Questo qui è per Alberto Bistocchi quale riconoscimento per la sua brillante e longeva carriera agonistica e per aver dato l'ultimo all'Italia in campo internazionale insieme alla IFBB. Per me Bistocchi è la IFBB. Grazie Alberto. Benissimo. Allora.